Vuoi un make up da favola? Scegli My Make Up del visaggista Claudio Acone Make up per il tuo evento speciale Matrimonio, cerimonie, diciottesimi Make up specifici Glitter, strass e face painting Make up uomo Make up over 40 Pulizia del viso prettamente personalizzate Massaggi trenanti al viso Trattamenti specifici anti-età e tanto altro Come fare? Basta contattare Claudio Acone al 380-896-7024 Oppure Facebook Claudio Truccatore di Saggista Acone O ancora, contatta e clicca mi piace alla pagina Make up da favola Testimonial ufficiale Serena Nardi della scuola di ballo Ti va di ballare? E Umberto Sanselmo UES Records Make up da favola Scegli solo My Make Up di Claudio Acone Fai A 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 Fai Grazie a tutti